Cronaca cinematografica Il cordiale incontro dei due condottieri In questa storica dimora si sono svolti i colloqui del Duce e del Führer Il Führer accompagna l'ospite nel suo appartamento Istantanea del primo colloquio Mentre i due condottieri sono a colloquio, i diretti collaboratori hanno i primi contatti Nei colloqui durati dal 7 al 10 aprile Il Duce e il Führer hanno riconfermato la loro decisa risoluzione e quella dei loro popoli Di condurre la guerra fino alla vittoria definitiva E alla completa eliminazione di ogni pericolo futuro che da occidente o da oriente minacci lo spazio europeo-africano Un completo accordo è stato raggiunto sulle misure da prendere in ogni campo Mussolini si è accomiata da Hitler e dai suoi collaboratori Il Duce e il Duce e il Duce e il Duce